Assolutamente sì, non siamo assolutamente contenti, siamo particolarmente arrabbiati con noi stessi, anche se i ragazzi credo che non abbiano responsabilità, la responsabilità secondo me è mia, ho caricato probabilmente troppo la partita perché ci tenevamo a fare una prestazione incredibile e a farla contro un avversario che ha sicuramente qualità, però abbiamo toppato la partita, è giusto che quando ci fanno i complimenti ce li prendiamo, quando è ora invece di riconoscere che non si è fatto bene, bisogna dirlo altrettanto serenamente. Il punto è che non abbiamo tempo per pensarci troppo, l'unica cosa di una prestazione che non ci è piaciuta e che non è stata all'altezza né delle nostre aspettative né della felicità che potevamo recare ai tifosi è quella del fatto che i tanti gol subiti sono venuti dal fatto che noi comunque volevamo in qualche modo trovare lo spunto per fare almeno un gol, per riaprire comunque una partita che sembrava destinata ad arenarsi. Se tornasse indietro qualcosa cambierebbe? Ma no, se si parla di scelte no perché comunque la scelta iniziale è in funzione di quello che avevamo secondo me a disposizione, i tre difensori erano i giocatori che comunque avevano giocato a Verona direi anche abbastanza bene. I centrocampisti Mandragora e Baseli sono quelli che comunque avevano giocato a Verona abbiamo optato per rischiare i difilati in maniera oculata e avremmo predisposto delle alternanze così come avevamo fatto a Verona. Ma poi la partita c'è sfuggita di mano e quindi a quel punto abbiamo avuto almeno l'accortezza di non prenderci ulteriori rischi magari schierando giocatori che potevano incappare insomma in ulteriore ammunizione. Ci dispiace perché ripeto, io avevo visto bene i ragazzi ma quando ci sono risultati del genere è giusto che sia l'allenatore a prendersi la responsabilità. Lo ho detto prima, non c'è tempo per pensare, c'è adesso da pensare soltanto allo Spezia, una partita di nuovo importantissima perché ormai questo rush finale è fondamentale. Come fare per evitare che i ragazzi subiscano la batosta di un risultato così? Noi questa valetta ce la dobbiamo ricordare, nel senso che nelle carriere di tutti noi quando magari ci sono delle sconfitte che sono particolarmente fastidiose è giusto ricordarsene perché poi sai nella vita tutto torna e quindi c'è anche la possibilità un giorno magari di poter fare questo scherzetto ad altri. Ma da questo punto di vista non ci deve essere la preoccupazione di aver perso una partita pesante anche perché si gioca davvero molto in maniera ravvicinata. Quello che dispiace è che per la carica che avevamo dato l'opportunità che vedevamo in questa partita non siamo assolutamente riusciti a fare quello che volevamo fare. Allora le auguriamo di riuscire a farlo per salvo? Sì ma io non c'è un giorno insieme ai ragazzi che non penso a quello tant'è vero che quando non otteniamo quello che vogliamo siamo sicuramente i primi insieme ai tifosi a rimanerci male. Allora le auguriamo di riuscire a fare un'altra parte. Allora le auguriamo di riuscire a fare un'altra parte. Grazie a tutti. Grazie a tutti